Nell'ambito dell'intesa Stato-Provincia sulla permuta di aree dell'esercito per la costruzione di alloggi per i militari di stanza in Alto Adige in cambio di un programma di costruzioni di alloggi e infrastrutture finanziato dalla provincia, stamani dopo la firma del secondo atto integrativo dell'accordo di programma vi è stata la cerimonia della posa della prima pietra del complesso di alloggi destinati ai militari, comprendente tre palazzine alte sei piani da 18 appartamenti ciascuna, oltre a 60 garagi interrati che prenderanno il posto dell'ex caserma Battisti in via caserme a Merano. L'appalto, pari a 9,7 milioni di euro, rappresenta l'ultimo atto degli interventi previsti dall'accordo Stato-Demanio Militare-Provincia di Bolzano per il passaggio di aree militari dismesse, nella fattispecie l'accessione alla provincia della caserma Mercanti di Appiano. Tra queste anche i 12 ettari della caserma Rossi in via Palade, mentre gli interventi precedenti avevano riguardato la realizzazione di una palazzina dentro la caserma Polonio, capace di accogliere 224 posti letto, la ristrutturazione di 12 alloggi ex foresteria al circolunificato di via Mainardo e la ristrutturazione delle palazzine Abba e Litta, sempre nell'areale della caserma Polonio situata vicino alla Battisti. Si tratta di un'intesa che può anche fungere da volano per l'edilizia locale.